Ciao benessi sono Slipek, siamo finalmente nella prima top 5 che faccio del canale Faccio la top 5 anche se comunque mi sono arrivati veramente tante clip in questi giorni perchè volevo strutturare al meglio il video visto che non avevo mai fatto una top e quindi preferivo prenderla con calma invece di fare cose di fretta e farle male Comunque passiamo subito alla numero 5 che troviamo Dome 25000... no vabbè Dome Che cosa fa? Comincia a sparare nel corridoio che c'è in operazione prigione e si fa una sestupla E voi direte si ma cosa c'è? C'è una sestupla me la faccio anche io invece no non è vero non te la fai la sestupla Comunque si è fatto una sestupla e guardate si è fatto 1, 2, 3 uccisioni con la VS e poi se ne è fatte altre 3 con una granata che lui non ha mai lanciato Cioè mi rendete conto? Cioè riguardiamo la clip allora Si alza Comincia a sparare Si fa 1, 2, 3 Vabbè Vabbè è ritardato il video No no è il battlefield Si fa 3 kill con la VS e 6 con una granata Non ha lanciato la granata è quello il bello Vabbè passiamo alla numero 4 In cui abbiamo il signor Face1963 che come vedete a lui gli stanno sulle palle gli elicotteri Rivediamo E lì sul quad Appare un elicottero selvatico in alto a sinistra Lui tira fuori lo smuff gli tira una smuffata in bocca e lo distrugge poi se ne va come se non fosse successo niente Vabbè Tira giù il mirino pochissimo ma velocissimo e lo becca in testa Cioè neanche io riesco a fare queste cose Ma la numero 2 invece troviamo Carmi che anche a lui stanno sulle palle gli elicotteri Infatti vedete tira giù un venom Dopo 2 petosecondi passa una patch e cosa fa? E tira giù anche quello ovviamente perché come ho detto gli stanno sulle palle gli elicotteri Cioè in queste top gli stanno sulle palle un po' a tutti gli elicotteri Cioè rivediamo Si fa fuori il venom che penso sia stato già dannezzato perché con un colpo non lo distrugge O forse sì forse no Si tira giù poi anche la patch e si fa non so quanti punti Se ne sarà fatti 1500 Comunque passiamo alla clip numero 1 Che come ho detto stanno sulle palle a tutti gli elicotteri Perché fa un 360 mentre si sta paracaduttando Spara l'RPG che passa sopra un'isola E becca l'elicottero che c'è passato dietro Cioè E la partita era appena iniziata se guardate i ticket Sono ancora 400 ticket Lui inizia la partita e umilia la gente Cioè lui entra in partita e fa Adesso non la voglio né vincere né perdere Io voglio umiliare le persone in questo modo Cioè Non so se avete resi conto di che caso ha fatto questo Roxas qua Comunque complimenti a tutti Se non ci siete in questa Non c'è una clip vostra in questa top E' perché le userò nella prossima top Quindi non arrabbiatevi Ma ci sarete anche voi Nella prossima top I link dei canali Delle persone che mi hanno inviato Le clip saranno sempre in descrizione Se non vedete il voto Ditemelo che io lo metto E la top spero che Cioè è finita Spero vi sia piaciuto E noi ci vediamo nella prossima Che non so quando uscirà Quindi ciao belli Ciao